Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torrecampana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sedicesimo episodio della Soul Link a Pokémon. No, non è Rubino e Zaffiro, Pokémon Platino. Qui con noi ovviamente c'è lui. Ragazzi, bentonati nella Soul Link a Pokémon e Zaffiro. Il mondo 2017 a tutti, quest'anno ci hanno avuto assolutamente una. Siamo tutti carichissimi, d'annazione. Ebbene, bastardo. Allora dai, Luca, zitto. Ragazzi. Il migliore intento di sempre, comunque. Luca, cosa facciamo in questo episodio? Beh, ragazzi, ci siamo un po' allenati, abbiamo messo una nuova coppia, quindi ci butteremo prima di arrivare perché sarà davanti alla palestra e poi in palestra. Oh, mamma mia. Oh, ragazzi. The Palace. Ma prima, siamo su canale di Gio, ragazzi, quindi siamo alla parte 16 e direi che almeno a 300... Bravo, Luca. Bravo, Luca. Bravo, Luca. Ragazzi, il rivale. Carico io, Luca. Carico? Carico. Dicilo, carichi. Sì, sì, no. Carichiamolo. Prendo un bel tir e pam. Perfetto. Tra l'altro, ragazzi, prima di iniziare, in questo episodio, quante evoluzioni, Luca? Non una? Non due? Ma tre, quattro, almeno. Almeno, eh. Zio, stai scherzando? C'ha Psyduck a livello 38. C'ha Psyduck a livello 38. Ho paura di sapere quant'è la palestra in questo momento. Te lo giuro. Stai scherzando? Anticura. Cioè, cosa? Abbasso... Ma no, no, ma sono fortissimi. Eh, ci faranno abbastanza sedere, Gio. Io spero veramente che la palestra sia easy, perché sennò siamo messi male. Ma io mica pensavo che fossero così forti. No, vabbè. Questo video l'ho abbastanza distrutto al momento. Vabbè, Luca, dai, sarà circa al livello del... Circa? Circa. No, sarà... Il capo palestra sarà circa al livello del rivale. No, ma se cos'è, Gio. Il primo po' è come al 38. Gli altri sono già più bassi, credo. Al 40. Grodon al 40. Stiamo scherzando? Come? Grodon al 40? Grodon al 40? Ok, Drapion è andato. Mi ha fatto sussedere, però, veramente. Don Fan. Madonna. No, io che sono sconvolto. Io sono sconvolto. Appunto, ne stavamo parlando prima di... I livelli sono almeno... Don Fan al 40. Come fa a essere così alto? No, psico... Psicotaglio. No, ragazzi, non ho parole. Ok, non è una così alti. È vero? Se usciamo da questo episodio senza morti, pretendo, come minimo, 400 like. Minimo. Ma come minimo, eh? Minimo. Ovviamente qua devono andare i feed, deve aggiustarsi YouTube, chiaramente, eh. Eh, ti prego. Cioè, nel senso... Vaffanculo, vita. Ok, io sono in palestra, Rochat. Eh, io sono al terzo Pokémon. Anzi, quarto, che è un Clefable. Poi spero veramente che me la mandi buona al Divino, in qualche modo. Ma veramente... Allora, sai che io non ricordo assolutamente come si faccia a sta palestra, ma proprio zero, raga. Natu! Io non ricordo i livelli così alti, è quello il problema. Sì, Natu a livello 36, ma è più alto del mio... Ma io non ci credo. Anch'io. Sono altissimi! Eh, tipo Omar, le va al 43, sto... No, spero veramente... No, dai, Luke, non dirlo, ti prego, mi fai paura, così. Eh, anche io mi faccio paura, Sonia. Mi terrò... Sto tremando, raga, sto tremando, non... Mi terrò, cioè... Ho vinto! Ho vinto, raga, sono divino, sono in interno. No, vabbè, è troppo casino sta cosa. Ok, perfetto. I gioielli velli sono alti. No, no, veramente, ma... Ma poi perché così alti? Cioè, io... Raga, non ho parole. Ragazzi, dovete sapere che il gioco è leggermente... Ho capito, appunto, 5%, raga, madonna. Stiamo scherzando, cioè, voglio dire, altissimo, Luke. 5%, non ho parole. Vabbè. Eh, proseguiamo, Luke, non ci facciamo, non ci facciamo... Non demordiamo, non demordiamo, cazzo. Ma va a cagare, marinaio infame, va, ti venisse qualcosa. In testa, proprio. Direttamente in... Un salvagente. Esatto, esatto, un salvagente sul cranio, proprio. Ok, fermi. Non ci credo. No, Luke, cosa... Bocelli! Stai scherzando? No, vabbè. Cosa fa Bocelli? Con salvagente in palestra? Eh, oh, eh, no, vabbè, non posso fare... Niente black humor, dai, devo trattenermi. No, Gio. No. Non ci... Mi trattengo, mi trattengo. Oddio, Bocelli è sciuttata con Fangos Berla. Con Fangos Berla. Dat quality. Ri... Ri... Uh, Abra sarà al divello, ragazzi. 37. Oh, attenzione. Quindi sapete tutti cosa vuoi. No, come volta... Ah, gli hai fatto malissimo, zio. Ok, perfetto. A casa. Gio, il piccolo... Il piccolo Abra sta per compiere un passaggio. Spero divino. Vediamo. Oddio. Cosa è successo? Oddio, Seleby. Ma sei scherz... No, dai, Luke. Basta. Ragazzi, dopo Mew, Seleby adesso. Cioè, io mi ritiro. Non dico più niente. Basta. Non ho parole, Luca. Mi fai schifo. No, sei zitto. Mi fai schifo. Non parlo più. In palastra affetta, quindi è pure un velocista, ragazzi. Mi dà l'ora, ma le olimpiadi di... Cioè, tu hai ottenuto... No, vabbè. Io non ci credo. Non ci... Cioè, tu hai ottenuto... Dillo. Mew prima. Esatto. E Seleby poi. In due parti consecutive, tra l'altro. In due parti... Adesso mi si evolve Marchstamp. Stai a vedere se non diventa un Oddish. Stai a vedere. Stai... Stai cazzo. Una scipola, praticamente. Esatto. Il comeback della scipola. Stai a vedere se non diventa uno schifo. Allora. Che uomo. Tu, Luke, dove sei? Eh, sto alzando pulsanti, buttando... Sei stato chiarissimo, Luke. È davvero chiaro. Dai, pigliamolo. Dai, dai, pigliamolo. Dai, sì. So che posso pigliarlo con buro gelo. Ho preso. Tu invece... No, sono di non uscito. Luke. Voglio piangere. Doppia evoluzione. Vai, Giù. Marchstamp, misti e cribbio. Marchstamp si evolve in... In cribbio. Chi è? Marchstamp si evolve in Grovile. Vabbè, non ci credo. Cioè, hai fatto il passaggio da uno stato intermedio all'altro. Cos'è? Was that a crossover episode? Si chiamerà così? No, non ci credo. Ok, che si evolve... Aspetta, si evolve anche cribbio. Cribbio, dammi una gioia. No, 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 no. Sei voluto in Krenidos. Sei voluto in Krenidos. No, 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 no. Non ci credo. No, 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 no. Questo è veramente... Questo è veramente... Questo è veramente... Non può essere successo. Invece... Non può essere successo! Che gioco è? Che serie è questa? Che serie è, raga? Che cosa? Allora, aspetta. Allora, un attimo. Non lo so, raga. Boh. Allora, devo... Non dico più nulla, io. No, devo un attimo. Devo uscire a prendere le pozze. No, Yuki, io non ho parole, davvero. Devo uscire a prendere una boccata da Arias. Pensavo stessi per dire. No, io non ho parole. Oh my god, raga. Perché? È incredibile. È proprio Krenidos. È Grovile. È Grovile. C'è due evoluzioni. Una più assurda dell'altra, veramente. Non so come descriverle. Non ci voglio credere. Ma sai che io lo so per dire prima che si volvesse. Adesso vedi che non si evolve in un fossil. Minchia sei voluto in un fossil. Ma poi proprio Krenidos. E poi... Cioè, Grovile. No, no. Non ce la posso fare, Gio. Troppo, troppo. Non ho parole. Non ho parole. Allora, aspetta che prendo un po' di pozioni. Ah, è vero che qua non c'è. Ah, ancora. A few potion, volevi dire. Esatto. A few potion. No, sono... Raga, sono veramente... Sono veramente euforico. Mi do fuoco. Ma magari fossi euforico. Sono veramente scosso nell'interiora. Perché questo coso spamma luce lunare, questo esco? Vorrei saperlo. Adesso ti faccio scaldere la luna. Madonna a lui. Madonna a lui è un bellissimo insulto, Luke. Davvero, complimenti. Madonna a lui è proprio bello. Mi piace. Eh... Ti piacciono già questi insulti di classe. Fantastici, Cassa. Fantastici. Comunque, Luke, a parte gli scherzi, cioè... Io posso ancora evolvere due Pokémon. Ossia, Grovile e Trenidos. Ma questi Pokémon... Ma, che ripeto, sono al 37. Eh sì, si evolvono tra un livello. Cioè, Joe... Tu mi vuoi veramente dire che ci saranno cinque evoluzioni in questa parte, ma veramente? Eh, minimo. 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 Madonna. Cioè, questo qua, ragazzi, è meglio di quell'episodio di Rubio e Zaffira a momenti. Madonna. Pazzesco. No, ma io, Luke, cioè, ho visto questa cosa e non ho più parola. Cioè, non ho... Non so cosa dire. Non so cosa dire. Cioè, è incredibile. Io non posso crederci, raga. Io? Io non posso crederci. Sono veramente... Boh. Incredibile. Sì, incredibile. Incredibile, è la parola giusta. Mi sto un po' perdendo, Joe. Tu che punto sei? Sei rientrato, oppure no? Sì, sì, io sono rientrato. Aspetta che sfrutto un attimo la pioggia per ammazzare sto Typhelusion. Vai a casa. Nero, pulsa. No! Cosmo, no, no, please, please. No. Brutto colpo, è morto Grovile. Ah, questa, questa, questa non va bene. Eh, questa non va bene. Sì, da chi, da Marshton, poi l'avevi detto? Sì. Eh, e quindi il mio, il mio serie è già andato, praticamente. Sì, ma c'è un problema, sto Typhelusion qua mi sta veramente aprendo. Vai, ti prego, devi farci, devi farci. Porta a casa, porta a casa la vittoria per la soldi. Fai qualcosa. Eh, ci provo, ci provo. Dragospiro! Dai, che... Su, 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 su SoundCloud, non ci credo io. Shroomish. Bello schifo questo Shroomish. Complimenti. Aguri. Bene. Io dovevo essere da Omar, praticamente, Gio. Mi sei piaciuto. Eh, lo so, ha fatto molto ridere. Sono da Omar. Sono da Omar. Eh, aspetta, io sono da, da... Ok, ucciso, perfetto. Me ne ha ucciso solo uno, no, Luke, con un crit che ti spezza. Mi spiace, ragazzi, purtroppo Pegasus, però, sarebbe già andato, ma, ehi, da. Era un po' che non parliamo poco, ma ho sbaglio, Gio. Eh, due episodi, forse. Forse due episodi. Così, così tanto. Si è passata una vita. Allora, aspetta, sai cosa faccio? Perché io non mi fido di sto Krenidos adesso, e questo è il problema. Eh, eh. Io non mi fido di sto Krenidos, raga. Quindi gli do il condivido esperienze e lo facciamo salire così. Ragazzi. Contro Zoica Papalestra, detto anche Omar il distruttore, ma ho paura, ho paura, raga. Sì, ma io sto sbagliando tutto, cioè. Bene, bene. Warpol. Primo Pokémon Warpol. Ok. Vai, vai, tu affrontalo, Luke, che io tra poco arrivo. Una Zeo per roccia, ragazzi. Attenzione. Un minuto. La Powerful, io... Mark. Eitran. È trovato Fatimo, è trovato Fatimo, John Mark. Sì, ma... Sì, ma Luke. Che dimenti che compici. Eitran, ma che palle. Zio. Dai. Hai qualche mostro di tipo terra che lo possa... Allora, c'ho... No, non ci voglio credere, Luke. Che successo? È morto anche Kribbio. Rip. Kribbio chi... Non mi ricordo anche più che era. Krenidos! Krenidos! Eh... Allora, avrei appena detto... Io non mi fido di quel Pokémon. L'ho mandato perché era l'unico che poteva far qualcosa. Cosa mi ha fatto sto Itran? Zampillo! Tanto, aspetta, da chi sei evoluto già Krenidos che non mi ricordo bene? Kribbio, Anurith, ovviamente! Ah, ok. Quindi mi stai dicendo che... No, mi stai dicendo che Rosved è morto. Sì! Sì! No, cavolo, Rosved è il mio Pokémon più forte. Capolo, questo non ci voleva. Ma lo stanno in giro in terra sta cosa comunque. Porca di bella pettana. È un vero peccato, è un vero peccato. Cioè, poi, allora, mi si sono evoluti... Piange. No, ragazzi, abbiamo perso. Quindi, Serebi e... Serebi. Grovile, Roserade e... Krenidos. Dai, ma poi che morti di merda, raga. Un brutto colpo è uno, minchia. Faccio il predict per uccidere lo Zampillo full vita con la pioggia. Ultimo Pokémon di Omar Chiogre. Mi prendi per il culo. Veramente. Spennata di Chiogre. Ma cos'è? Dai. Io ho pure perso Roserade che aveva VigorColp. Gio, Gio, vabbè, io vengo lì veramente. No, vabbè, povero Gio. No, a me non ha... Uno mi ha fatto un crit a caso con Nero Pulsar. L'altro io, cioè, boh. Sto affreddando anche io, Omar. Meglio noto come Stacy. Va bene. Cavolo, fa pure... Stacy è il distrutto. Stacy Lady vorrei aggiungere. Luca. Mazda. Non era ancora successo. Ahem. iPhone. Ecco, ho fatto... Eh, dai, Gio. Per tutti i scimpietti! No! No, iPhone con stramontante su Tacos. No, no, no. Toglilo, please. Toglilo, fai qualcosa. Levalo. No, che sclero. Che più grandazzo. Che sclero, Cristo. Mac. Mac. Si conta su sto cosmo. Magma, clisma. Ambi, fermati, cazzo. Fermati. Ambi, non c'era... 41, Mac. What? Giova più forte al 41. Ok. Ok, per il prossimo episodio ce li diamo un pochino, eh. Che dici? Direi fino al 50. No, al 50. Il 50. 42 almeno. Eh, sì, almeno. Mimo. Ho vinto la medaglia, io, Giova. Ho vinto la medaglia. Allora, io sto seccando il suo secondo, che è un dito. Però se vuoi usare le pozioni, raga, è un po' un problema ucciderlo, ok? Le pozioni non devi usare... Cozzata Zen. Tua madre morta. Via! Guarda se non sto soffrendo come un cane. Ok. Ultimo Pokémon. Ariama, Luke. Vai, Giova. Ariama dalla Soul in Clubine di Zaffiro, che era il potentissimo Ariama. Allora, vediamo se riesco a combinare qua... Minchia, non gli faccio niente, zio. Non gli faccio niente, con psicoraggio. E cazzo, c'è solo questa per buttarlo giù. No, zio, la baccacetro, no! Allora, aspetta. No, ok, allora, l'unico che può combinare qualcosa è Stone. Però... Stone. Però è un problema. Cruel. Sì. Allora, lui sta spammando Ira. Allora, aspetta. Super pozione carica. Non fare mosse strane. Minchia, mi sta facendo malissimo con Ira. Oh, l'ho confuso, che culo! Buono. Giù? Buono, così. Beccati da solo... No, 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 ok. Vinto! Che mi hai tolto, finalmente. L'ho portata a casa. Per i prossimi episodi ci alleniamo un botto, Duke. Io sto levando purtroppo Rosalind, ragazzi, che... Che era molto forte, se l'avevi che è durato pochissimo, non è un episodio, ma vabbè. Questo era solo... No, allora, io vorrei fare un appunto, no? Questo episodio doveva essere Gesù. Doveva essere Gesù questo episodio. Invece. E invece sono fuori devastato. Cioè, ho evoluto due Pokémon, ho fatto un crossover e sono morti nel raggio di due minuti per... Sì, veramente. Quante morti siamo? Sì, 12? Eravamo tipo a... Sì, penso 12. No, forse è una cosa di più, forse è una cosa di più, sai già. Dovevi un po' controllare. Controlli. Vediamo. Allora, però siamo troppe morti in ogni caso. 12. 12 morti. 12 morti. Io prima di concludere l'episodio farei una bella cosa. Andrei, giù nel percorso, quello dedicato a... Cioè, quello sotto... Stai impazzendo, non riesco a dire, non so più neanche connettere. Sì, quello che praticamente non si fila mai nessuno. Esatto, quello lì sotto. Ecco. Non so se farlo in episodio. Fa una cattura, dice. Eh no, non so se fare il coso in episodio, proprio, cioè fare una parte a parte. Non lo so. O facciamo la cattura adesso, o poi la facciamo la prossima parte. Ma vedi, la cattura adesso, la cattura adesso, che se la facciamo, abbiamo 6 Pokémon nel prossimo. Sì, perché abbiamo Cherubi e un altro Pokémon che non ricordi. G8, mi pare, forse. Sì, esatto. Li alleniamo, è buona. Facciamo la cattura sotto. 112, quindi. Ma il percorso lo facciamo in video, poi, tutto? Vediamo. Questo percorso qua è un po' stando, ragazzi, da farei... Eh, infatti, più che altro è abbastanza anonimo, quindi boh. Eh, non c'è molto. Eh, infatti. È un po' abbannato a se stesso, questo. È zero. Dai, io sono nel fango, giù. Vai, anch'io sono nel fango. Ma nel fango li trovo, i Pokémon, sì. Eh, io sono nel fango, ma non c'è nessuno. A me non convince, cerca dell'erba, Luke. Cerca dell'erba, a me non convince sta cosa. Eh, mi so che c'hai ragione. Aspetta, non mi beccare. Ok, io ho evitato pure l'allenatore, raga. Nel caso li facciamo fuori parte per allenamento. Oh, cattura! Ce l'ho! Dai, eh. È Clay Fairy, però è Spice is Close, perché è della stessa catena evolutiva. Giù, 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 giù. Quindi niente. Diamo un po' da me. Ho perso 10 anni di vita. Ho trovato Svello, vabbè, non mi piace molto. Se evolve tra tanto, però rimane un Gabite. Mi ha fatto sonnifero, ma perché sonnifero? Dovevo farlo io sonnifero. Iniziamo bene. Sì, io. Iniziamo bene. Ho preso, subito. Oh, anch'io. Subito da ultrò, presto. Anch'io. Vai, giù. Pokémon Grotta. Dimmi che è femmina, e ovviamente quando voglio chiamarlo Cinzia, è maschio, chiaramente. Chiaramente, sia mai. Io non so come chiamarlo, te lo dico. Eh, Svello, pure femmina, dannazione. Come lo chiamano Svello? Lo chiamo Rage, non è la prima volta che chiamo un coso così Rage, vero? No, no, no. È un nickname che ogni tanto torna. Ogni tanto. Nè, infatti. Rage, vai, perfetto. Io invece Svello la chiamo... Boh. Cioè, Svello, femmina, dannazione. Raga, ma che cosa? Nella vita non ho questa roba. Comunque, Luke, è morto Cribbio, ma ci seguiva da Evopoli. Cribbio era... Sì, sì, appunto, mi ricordo che l'abbiamo catturato nel percorso a destra di Evopoli. Era uno dei... In grande difficoltà. Esatto, in grande difficoltà. Era uno dei pochissimi veterani che ci ha tirato su, poi sei voluto in quel tumore morto. Ok, ragazzi, eccoci di nuovo qua. Abbiamo avuto un piccolo problema. Comunque, l'episodio può concludersi. Abbiamo fatto la nostra cattura, quindi nel prossimo episodio avremo sei Pokémon. Noi speriamo che questo episodio vi sia piaciuto, se è così, ovviamente vi invitiamo a lasciare un bel piaccio, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, signori, passate dai social, premete la campanella di entrambi i canali. Mi raccomando, suonate anche scitofoni in giro, avvisate, condividete, rispondete alla DDG. Che bello questa volta, molto piaciuta. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.